È un protocollo in cui alcune amministrazioni, in questo caso è un'attività che porremmo in essere insieme al Tribunale di Teramo e all'Inps, nell'ambito delle pratiche di CTU che loro svolgono in alcune situazioni di controversie, noi mettiamo a disposizione degli ambulatori della ASL invece di farli andare negli studi dei CTU con notevoli disagi, quindi adesso ci sono degli orari ben definiti in cui queste attività vengono praticate e vengono svolte all'interno della ASL, nelle sedi di Teramo, Nereto e Roseto. Il protocollo consiste in un accordo tra l'Inps, l'Ordine degli Avvocati, il Tribunale e l'ASL di Teramo, per consentire l'effettuazione di visite mediche negli ambulatori messi a disposizione dall'ASL, quindi in un territorio, se vogliamo, per così dire, neutrale e comunque luoghi di prossimità anche all'utenza, parlo sia di avvocati che di parti che devono essere esaminate sotto il profilo medico, nei casi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Cioè, per ottenere determinate prestazioni assistenziali, come sappiamo, spesso è requisito fondamentale un accertamento sanitario. Con questo protocollo di oggi si realizza, in pratica, un interesse della collettività ad avere un presidio di legalità diffuso sul territorio, perché l'ASL mette a disposizione ambulatori sia in territorio di Teramo, sia in territorio di Nereto, quindi per la Val Vibrata, e in territorio di Roseto, quindi lungo la costa. È indispensabile garantire la presenza, poi, dei medici IMSS, che hanno orari spesso contingentati, perché lavorativi o comunque devono ripartire il loro orario di lavoro su più impegni, che sappiamo tutti quali sono, di controllo e verifica, per partecipare proprio a questi accertamenti tecnici preventivi e per quindi apportare il loro contributo tecnico-medico agli accertamenti svolti dai consulenti tecnici per stabilire l'aspettanza o meno di determinate prestazioni assistenziali collegate a stati di malattia.